sono con abbastanza illuminazione così allora pausa pranzo vediamo prima di tutto tu intrattieni racconta cos'è successo cos'è successo quando? previously previously on alien isolation at lunch with at lunch with veramente brutta questa cosa allora molto semplicemente le richieste sono state centinaia e centinaia di migliaia miliardi e quindi abbiamo deciso effettivamente di serializzarlo probabilmente per la seconda volta poi quando le visualizzazioni ci metteranno zero noi chiuderemo con grandissima serenità e il bello è che non riesco a capire come facciamo a vedere il nostro canale live perché in realtà io dopo ho preparato alcuni sketch perché voglio intercettare tutta l'utenza di Favij che lui fa tra 500.000 e un milione ci mancano 997.000 persone e siamo lì proprio sente il fiato sul collo tipo faccio porca puttana passa la voce ma è quello che fa lui funziona funziona sono centinaia di migliaia di visualizzazioni porca troia è così hai un problema eh se li vedete conto no quello che dicevo non partiamo troppo carichi perché sennò poi si smorza il ritmo sì sì infatti più che altro stavo dicendo comunque si chiama pausa pranzo con il gioco dovresti giocare teoricamente aspetta prima di tutto sto cercando di farti mettere ecco vedi ti sto cercando di far mettere in modo che forse vedo qualche commento commentate solo su twitch ma siamo live pierpaolo si è dimenticato il computer a casa quindi ho portato l'ipad del merda oggi sono stato ridicolo rimani stasera per sì sì aspettami no avevi promesso che venivi però a vedere la mens vs food sei bugiardo sono una sola sì più che un bugiardo sei una sola come perché secondo te non riesco a vedere facciamoci una comunque abbiamo già dei problemi tecnici ah eccolo eccolo ma cos'è quella finestrella lì ecco ecco guarda vorrei far vedere la grande chat di twitch no ma i potenti teoricamente io non capisco perché non mi riesca a vedere il nostro canale live perché se tu fossi se tu riuscissi a vedere il nostro canale live potrei spercare banda guardando noi stessi che facciamo questa roba no puoi mettere solo la chat però te la fa vedere a tutto schermo ma poi non si capisce perché non giri forse l'ha spostato qua lui il blocco del potrebbe essere prova ma tanto pure se adesso lo giri che cambia magari magari vabbè adesso è diventata tutta un'altra cosa beh almeno stai in piedi da solo allora ricordiamoli il previously allora io non ne ho la più palida idea no avevi giocato te alla fine ed eri scappato no e tu mi avevi passato il pad perché era comparso l'anien dopo di che io sono riuscito a scappare molto agilmente mantenendo la tranquillità tipica di un videogiocatore medio ok e adesso siamo arrivati in quella zona in cui c'era il robottone là che abbiamo provato a salutare io scusate veramente faccio pausa pranzo perché non ho preso il pranzo mi mangio un tramezzino mi chiamo lì mi serve il tuo aiuto si sieda prego qualcuno la riceverà a breve dove mi siedo secondo te perché ti devi sedere? cioè perché perché dovrebbero progettare un prodotto c'è una stanza che non ci sono sedie e ti dice si sieda prego magari ti devi sedere per terra perché ti devi sedere su sto cazzo? ci sono le scale ci sta anche il casco di Master Chief si siediti puoi trancine ok non posso perché non c'è il comando per sedersi in questo gioco quindi ma sta luce da sotto? allora secondo te quante volte moriremo perché io a parte non mi mi dano neanche più i tasti che c'è qui? abbiamo uno share maggiore del TG1 si 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 ma è rinomato è rinomato allora selezioniamo il sistema quindi qua vuol dire che anche qua ci sarà è uno di quelli dell'altra volta che devi spostare l'energia elettrica di guardia quello che io ma tra l'altro riesco mai a capire dove siamo o no ah noi siamo no no rv rv noi siamo quindi questa è purificazione aria rete wireless si no rete wired perché comunque ricablaggio rewired probabilmente sarà la serie accesso al portello lo apriamo che spegniamo però per aprirlo spegniamo il video ed apriamo il portello no ce ne vogliono tre perché costa tre marca troia ecco adesso vi dovremmo aver aperto il portello del dell'amico fritz è molto bello perché ha anche una lunga autonomia di stand by non mi stai facendo sentire niente di quello che stanno dicendo ma ci sono i sottotitoli scusate ho finito di mangiare adesso provo a concentrarmi ma scusi ma dove sono finiti i sottotitoli e direi che c'è un bel indicatore bello tu cosa dici andiamo ma perché c'è tutta questa ah perché ho spento la purificazione dell'aria giustamente ma noi abbiamo la tuta all'are ma dico noi respiriamo aspetta aspetta respiriamo il buio noi respiriamo il buio si è certo è famoso il respiro buio abbiamo aperto questa stanza adesso andiamo a vedere che c'è qui la domanda è noi quando l'aria non è no purificata al massimo puzza non è che non possiamo ah non è e perché puzza cosa puzza scella d'è morto beh magari tipo se ci sei passato te scorreggia dei alien ci sta la scorreggia ci sta la scorreggia dei alien si è rinomato prendi tutto ah limite ragione quindi questa è una stanza di nulla c'è chi sostiene che è un gioco horror non si può ridere non è permesso hai ragione c'è anche c'è chi dice no tu mi racconti intanto cosa fai niente sto andando qui ti ho detto abbiamo aperto il portellone abbiamo visto che non c'era un kazoo quindi adesso intanto sto lootando tutto il lootabile uno ha scritto è una diretta horror solo perché c'è Alessio lo prendo con complimenti quindi adesso noi richiudiamo il portello la purificazione però era attiva perché si vedeva quella puzza lì ah forse perché dà proprio fastidio la purificazione dell'aria forse è per quello che si vede quella roba lì quindi noi la spegniamo adesso così forse non si vede più non si vede più quella roba cioè adesso dovrebbe tirare via tutto il foggy 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 teoricamente no in un'ora scacchia via scusa ma scusa ma sei andato in quella stanza che abbiamo aperto si l'ho già aperta e già l'ho navigata e che cosa c'era lì niente no c'era una valigetta vuota piena di meraviglie una valigetta vuota ecco vedi mancava questo vedi non l'avevo fatto la cazzata adesso si capisce perfettamente dove dobbiamo andare non ci muoviamo da qui scusa e quell'altra quella x che cosa rappresenta quale x quella rossa la x rossa ti faccio vedere la leggenda bloccato no noi dobbiamo cercare probabilmente di entrare dall'idea vedi possiamo arrivare ovviamente alla cabina di questo androide del cazzo ah gli dobbiamo entrare da dietro come sempre come ti piace a te esatto solo che non riesco a capire da dove c'è ah da là forse ci arriviamo no no ho capito ho capito si però un attimo che blocco qua lo stand by perchè non si capisce niente ma però qua ho levato la purificazione ma comunque non si vede in cazzo vedi che non c'entra niente assolutamente torcia ioni necessaria tra l'altro tu fai rima coglioni eh lo sapevi? coglione oh 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 chi è lì? ma è un androide non è cattivo ma che cosa ha fatto? è un gioco di carte no ha fatto come la corsa sul posto ha fatto ogni tanto si allerano state che blocco io credo che siano cattivi eh dov'è l'opzione per lo stand by del merda? in generali? non lo so però la gente mai le ti sta scrivendo in chat schermo luminosità anche qua è pieno di androidi eh blocco rotazione muto utilizzo aggiornamento ma è tutto chiuso però blocco automatico mai tessera d'accesso è tutto chiuso non so dove andare taci su vai vai famigliati devi anche dire oh porca puttana l'emergenza e non vi rendete conto di cosa succede ok ma Apollo quello di Rocky lascia stare troverò la strada da sola non hai capito la patrida eh no l'ho capito ma Apollo non era questo ho voluto glissare per la tua dignità non era per nient'altro ma Apollo sarebbe il sistema di questa nave un po' al 9000 non glielo consiglio sono tornato in chat non glielo consiglio cosa? non glielo consiglio di Pierpaolo deve superare i suoi traumi infantili sedimenti dell'inconscio per così riuscire a giocare a tutti i giochi che gli fanno paura oh comunque ragazzi se ci aiutate andiamo un po' più svelti vabbè qua non c'è niente da aiutarci non vorrei passare 47 puntate ci sta Zoom Chance il nostro mitico Centini ha detto che cercava che si prende un giorno di ferie per cercare di venire la Beppanza 1 ha spostato il pc per collegarlo al televisore e ci guarda in widescreen in salotto spero che ti stia mangiando così rimetti tutto direttamente siamo un po' la bulimia esatto lo sto raccogliendo tanti di quei pezzi di metallo Ale potrei costruire non lo so una fabbrica ma secondo te noi facciamo 3000 contro i 500.000 di Favij perché la nostra utenza è la creme della creme no perché facciamo cacare avevo questo sospetto però volevo cercare comunque tu ti stai perdendo tutto il gioco tutto il gioco ti muovi per delle stanze non succede niente capito Ale poi che spengo il sistema di illuminazione ma neanche sotto una torta magica proprio io ho capito che serve il sistema di purificazione zoomcense è due ore che cerca di aiutare zoomcense è da centini te l'ho già detto sei volte come fa a essere due ore abbiamo aperto da cinque minuti prendo probabilmente lui era là due ore prima ho preso un momento importante oh oh l'allieno adesso comincia a essere un po' importante adesso raccoglilo ha parlato questo guarda questo l'immortal è fighissimo il pad fa il pad ha effetti sonori faglieli sentire al microfono per chi non l'ha giocato ho capito è fighissimo ho capito Ale che devo fare fa vedere come si illumina perché è tutto verde vabbè basta Alessio vabbè a un certo punto non pieghe il cazzo allora io volevo fare volevo costruire qualcosa tipo una granata flash premi L1 per costruire allora costruiamo una granata flash c'hai tutto? flash ahah e con L1 per assemblare tac guarda che ti ho creato una granata flash mi ha sempre annoiato questa parte di finto crafting invece è molto importante no beh mi annoio non ho mica detto che non lo sia però è molto importante andiamo a vedere il terminale non mi diverte ho messo proprio supportare il piano e solo da questo errore file inesistente questo è come naviga sul tuo computer chiamiamo Pimpolari il responsabile tecnico di recuperare i dati andiamo a vedere ancora avanti no legge la voce alta vabbè non significa niente accesso al portello disabilita il meccanismo del portello vedi eccolo lì secondo me quanto è possibile che adesso iniziamo a morire come dei maledetti ogni volta che incontrate l'Aryan gridateli voi quei kiwi va bene probabilmente sarà qualche cosa sempre qualche riferimento a Favij probabilmente che noi non conosciamo perché non siamo ciovani non siamo più giovani da tanto tempo ed è per quello che ci mancano 997.000 visualizzazioni eh questo niente questo l'ha visti tutti no non c'era nient'altro da sbloccare niente ok era solamente questo ma l'abbiamo disabilitato quindi andiamo del portello che abbiamo aperto esatto adesso tu terrai sempre in mano quelle cose lì dove l'Aryan dove l'Aryan dove l'Aryan no guarda che figata guarda vedi che non è vedi io sto a fuoco su lui no su lui chi sul sensore esatto guarda posso mettere a fuoco dietro lo so lo so l'avevo già visto l'avevo già notato con la foto non riesci a fare con gli occhi te è normale con gli occhi viene automatico sei sicuro il problema qui è che dov'è che perde il senso ma la smetti non è successo niente come no non c'è niente sul visore la begiava comunque c'è uno che dice è mosso cazzi che vuol dire che c'è qualcosa intanto fa p ma fa sempre p p era questo qua infatti però mamma mia allora per il ricablaggio volevo dirvi che all'interno della schermata se prendete rb ed lb avete le altre stanze per trasferire l'energia ops questo è zoom chance ah fantastico si ho capito effettivamente ah c'è recuperi tutti gli altri posti si non riesco a capire dove cos'è quella cosa che gira intorno è l'orientamento non lo so lo so l'orientamento rispetto a che zoom chance che cos'è quella barretta che gira intorno rispetto al nord tipo la bussola ma che cazzo ce ne può fregare provo a vedere mettiti faccia nord e poi guarda come sei ma non posso sapere dove è il nord non ci sono gli altri non ho il muschio non c'è il muschio sugli alberi quindi non posso sapere qual è il nord scusa Ale però pure tu eh no ma che posso nascondermi nel cabinet qui no tieni prenduto tieni prenduto questa è tanta roba finito stiamo qua due ore dentro il cabinet comunque devo dire che per ora in quante ore di gioco due e mezzo ormai abbiamo visto Lion una volta uscire da un tombino ma non capisco perché hai quest'ansia di dover vedere Lion perché andiamo solo in giro ad aprire porte cos'è quel simbolino là sopra secondo te quello giallo lì punto di interesse allora quello è dove dove dobbiamo andare lo so dove dobbiamo andare no no zoom c'è si ha detto che il rettangolino verde che si muove è la direzione un po' l'aiuto solo è qua dentro che troviamo non lo so aprilo funziona così a natale cosa fai sei lì che fai così coi pacchi stai scorreggiando ma sono preoccupato che adesso esca qualcosa e allora ti metti in posizione preoccupazione che c'è qua secondo te è la direzione dell'obiettivo una sorta di gps non è la bussola è la vostra destinazione lo dicono tutti grazie dell'info è inquietantissimo comunque adesso è veramente una cosa super inquietante ma cosa non c'è niente io sono sconvolto ma te non ti fa paura ma zero proprio ah ve lo dice anche lui guarda l'indicatore al margine punta verso l'obiettivo mi piacerebbe mettere Pierpaolo in una baita in montagna da solo al buio e vedere che conviene vedere l'effetto che fa oh 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 qua continuiamo a diventare sempre più potente perché la cassa acustica che cazzo fa scusa il rilevatore per cambiare veramente il suono vedrai ah le istruzioni raccogli i pezzi raccogli crea una cassa acustica ti mancano dei pezzi ce li hai tutti si mi manca si quello lì l'invettore no no ce l'hai no non ce l'ho il rosso ah è quello non è difficile invece era un po' complesso ma tu non hai paura per niente non ti mette ansia no a me tantissima fai poco il coglione c'è un punto rosso poi adesso è compasso il punto rosso oh il punto rosso che cazzo è tipo i punti neri no ma cos'è la lucina rifai la mappa rifai la mappa aspetta tieni premuto no perché non mi fai le cose che dico io ok e adesso cassa acustica è fondamentale ragazzi secondo me esce dalle fottute pareti si perché fanno troppo casino come fanno troppo casino sto facendo un rumore cioè no ma zoom chance dice cassa acustica è fondamentale ragazzi si più verboso centini perché qui siamo ritardati mentali cosa usi che cos'è che cosa triste era un po' triste era una cosa tristissima regalo oh qui invece è un bel regalo un po' più un po' più questo è più importante ho preso tutti i pezzi è bello uno ha scritto secondo me l'alien sta guardando la diretta sui punti così salto guarda qua quanti cabinet da aprire ma sono tutti da una prova prova da aprire o sono solo cosa ha detto c'è una zona riservata devo contattare la mia nave mi dispiace non è possibile se ne vada ma cos'è idiota ha detto no 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 si no mi ha fatto mi ha soltanto salutato per ora no noi siamo Amanda vero noi siamo leggenda no 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 sono nome si perché ci sono ah ma che coglione guarda che genio prima ti ho detto ci sono ti ho detto torna sulla mappa ti ho detto spastic boy guarda che che sono le luci del blur che coglione incredibile e non mi ascoltavi no 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 è proprio super coglione ecco lì veramente il super coglione eccolo qua preoccupatevi degli androidi per adesso sono armadietti zoom chance scrive comunque non è verboso zoom chance ci aiuta con è peggio è peggio dell'oracolo di delfi sono campione ho fatto un minigioco il campione del mondo un secondo hai fatto proprio Alessio non rompe il cazzo ma c'è neanche l'ho fatto apposta per prenderti per il culo mi dà fastidio che sottolinea i momenti di tensione mi dà fastidio posso costruire uno perché ho preso un iniettore e poi ci spiegate che cosa servono queste cose ma tipo li lanci sì per fare umore sì sì certo ovviamente Luca andiamo in giro con il revolver no io voglio capire se sto cazzo di aliens è veramente pericoloso o muori Alessio muori per forza se lo incontri muori se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccidi un buco come si fa dobbiamo passare per forza ma è buio è tutto ma tanto qui non ci entra lui perché non ci sta è dieci volte più grosso oh non funziona più bene problemi di ricezione in gps fammi passare sono io yuk tu mi riconosci ha detto sono io yuk ascoltami dobbiamo ristabilire le comunicazioni a lungo raggio lei è isterico lei è isterico questa prevesse con te Ale ma puoi dare una ma puoi dare una spallata per pensare di sparare un robot ma sei completamente idiota se fai una roba del genere è fighissima questa cosa allora gli android si sono un po' arrabbiati avevano detto anche buona giornata avevano detto abbi paura degli androidi cioè dici secondo te appena mi vedono io crepo istantaneo no però sono i cattivi di questo di questo livello tra virgolette ma il però me lo devono giustificare tutta questa roba l'ha giustificato perché lui gli ha detto dobbiamo rispristinare e gli ha sparato gli ha sparato si no ma però gli ha schiacciato anche la testa contro il muro perché gli ha sparato si ma non può essere perché i robot ci sono le tre regole dei robot vabbè le regole dell'amico ma sono robot che cazzo le regole la regola fa quelle più attive una in questo punto Pierpaolo non deve farsi vedere dagli androidi e nemmeno dalla telecamera dice zoom guarda sta lì la telecamera però bisogna che ti muovi da lì perché sennò ti becca ti becca sta tornando indietro non mi può beccare non gira tutta magari torna indietro tu tu farei quella fine lì oh mio dio se ho detto dov'è che devo andare comunque mi deve giustificare perché i robot aggrediscono gli esseri umani l'ha detto ancora gli ha sparato non c'entra niente non basta sparare a un robot perché questo ti spacchi la testa ma sta scherzando non ha una difesa personale o almeno ce l'ha ma fino a quando non lede agli esseri umani sono le tre regole della robotica Alessio dai però o parliamo di fondamentali o sti cazzi allora raccontiamo tutto facciamo passare anche un dragone e va bene stai rompendo il cazzo però allora Alessio è perché gli androidi hanno una IA fatta col culo ed è per questo che impazziscono ciao a tutti è già morto qualche volta? no non moriamo mai non moriremo mai noi a questo gioco non possiamo fare con Pierpaolo dietro la schiena oh per le tre regole di asimo va a ragione Alessio Alessio sta arrivando che faccio? non lo so sento odore di sangue e mi gira la testa mi porti all'ospedale perché? non lo so non mi sento bene mi gira un po' la testa ma la pianti sembri cretino e se muoio in diretta? beh sarebbe sai che piccolo accesso finalmente ho sentito odore di sangue mi si è scaldata la faccia non l'abbiamo salvato da nessuna parte no hai salvato un po' prima ha capito 40 minuti prima ho salvato però cammina vedi lo scoprite dopo perché gli androidi sono cattivi perché l'hanno giustificato per forza grazie comunque si ho perfettamente ragione asimo non c'entrerà ma ci sarà un problema un buon problemaccio le leggi della robotica Alessio recita 50 Ave Maria così Pierpa si tranquillisce vabbè infatti è veramente fastidioso però ora pronobis ora pronobis prega per noi beh Gabriele Fulginium le tre regole di asimo in realtà nascono dai romanzi ma sono state poi declinate nella scienza robotica perché hanno un fondamento di carattere generale che è determinante per la produzione dell'intelligenza artificiale che a tuttora come sappiamo non esiste neanche in forma embrionale però leggiti qualcosa perché non è solo non è solo letteratura ma sono fondamenti che hanno fondamenti logici si se li passo addosso determinanti niente torniamo lì dove c'è lo schermo verde già già fatto già fatto e torno indietro questo l'ho capito così con la telecamera posso passare fino a là ci sono arrivato ora vai dove sta la telecamera Alessio non c'è bisogno che mi dici cose ma come scusa ovvie già ci sto andando io non sto seguendo eh ho capito tu invece di parlare delle leggi della robotica inutili vabbè allora sto zitto e faccio finta di avere paura con te vedi l'ho spenta capito ho spento questa telecamera che prima non mi faceva che è quella che non ti faceva passare di là ma non può io ho paura dei rumori Alessio ho paura dei rumori ok questo cos'è tipo un ascensore quelle cose che prendiamo di solito ci portano qui e là eh dai madonna ci sta a mettere un'ora e mezza eh dai madonna che fastidio a me piace un sacco lo strafe mi dà proprio fastidio mi dà eh ma proprio tanto mi dà ma poi dura tantissimo cioè guarda che agonia e non c'è ancora l'alien ma beh io non ce la faccio per me è impossibile io già lo so ma scusa eh allora il gioco sicuramente tenderà a prendere un po' di paura ma ti darà sempre la possibilità di competere scappare e vincere non l'hai detto perché magari è fatto in modo che non lo puoi finire ci saremo gli unici attento che c'è il robot là dove dove è passato no dall'altra parte mi sembra a destra il robot non l'aio ah ci sta qualcuno con cui sta parlando hai visto? no al massimo ho sentito no no c'è qualcuno che parla scusami dimmi perché quel rilevatore dovrebbe rilevare l'alien? perché rileva forme di vita e perché rileva gli androidi? però gli esseri umani no gli androidi non li rileveranno certo rileva no l'hai appena spinto l'ho visto passare uno non c'era nessuno no no lo rileva perché si deve un sensore di movimento sensore di movimento ah ok prendi la mappa è già fatto la mappa a destra guarda che sei proprio ma gli fa paura è proprio un sensore ma guarda che sei proprio deficiente non ci crede è impossibile ma guarda che sei proprio un coglione allora vedi che sto teso che cazzo fai mi prendo un collasso mi fai venire ma non ci credo cioè non sei normale nuve tre ore che giriamo non succede niente è un gioco in cui bisogna raccogliere margherite in giro per una base spaziale non c'è un pericolo da due ore cazzo a parte che non è vero cioè non dico voglio sparare siamo intestati ad albero c'è gli occhi rossi eh porca troia c'è gli occhi rossi l'hai visto? c'è gli occhi rossi scusa non lo rilevi perché è fermo sta fermo adesso lo rileva si sta muovendo ecco tieni aperto controlla che movimento faccia avrà un pattern qualcosa sta venendo qua adesso 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 che cazzo facciamo non lo so ci facciamo un po' di bending e poi aspettiamo stai nascosto porca troia si sta facendo i cazzi suoi la domanda è cosa devi fare? ce n'è un altro o è sempre lo stesso? è un altro sono in due? sono in due mazzarola praticamente noi dobbiamo andare a contattare la Verley Verley nella torrent dice di qua però non riesco a capire in che punto di qua non riesco a capire hai preso la colla da sniffare? si vai vai dove ti dice di andare ci sto con calma ci sto ci sto sul punto ah forse sto piano sopra forse forse al piano sopra si 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 proviamo ad andare a vedere forse dal piano sopra ok hanno riso del fatto che mi hai fatto venire un colpo? si per chi chiede no perché ringrazio l'eventuale registrazione automatica di twitch se registreremo poi la pubblichiamo su youtube quindi se volete tagliare il pezzo dove gli viene un infarto se mi fate la gif mi fate felice dove andiamo secondo te? che cos'era questo rumore? era il coso lì dov'è il coso per salvare cazzo? no è di qua dov'è il coso per salvare? c'è una scatoletta lì a destra a destra a destra lì quanta roba qui è dove dovevi andare? non credo controlla la mappa? no devo andare dall'altra parte qua so per arrivare un punto vediamo cosa succede è il nostro computer da merda? ma devo prima fare il solito giochino queste cose qua erano pure di palle cioè una volta se lo fa ridere poi tu non sei un campione valcatroia diritti amministrativi che ci sta scritto? comunque devo dire che sto giocando a link between two worlds il level design è sempre molto piacevole se devi parlare mi dicevi peste e corna no dico semplicemente che non è un'esperienza di cui avevo bisogno lo faccio come passatempo qua si comincia a mettere male perché cosa dicono? che in pratica la nostromo aveva dato un messaggio? sì e che cosa diceva? che diceva che il tono non è buono quest'anno c'è stato sto problema hai product placement perché in realtà ci pagano non fai il coglione ci pagano comunque non capisco dove si salva perché io continuo a sentire il rumorino bip 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 dici che ha questo piano? è poco la torcia è tutto acceso ora siccome ovviamente succederà ma infatti è prima non vuoi salvare non potevo non c'è un punto dove salvare struttura non collegata tutte le comunicazioni in uscita sono bloccate è carino per ora non succede niente abbiamo visto l'anion una volta in tre ore no probabilmente se te lo giochi a casa che mi dicevi con RB cambio ah sì con R1 R2 cioè vedi tutte le altre tutte le altre sezioni non questo è l'unico che ha una sala sola ma perché è un ipotesi no scusa quelle roba sopra? ah nessuna posizione nessuna posizione nessuna posizione io ho spento rilevazione i video comunque per non sapere leggere e scrivere che sono quelle che diceva probabilmente sono le telecamere dici mi fa pensare questa cosa ci infiliamo? dicono sei passato davanti al punto di salvataggio sta al piano di sotto stava piano di sotto piano di sopra rispondete facciamo un sondaggio via le telefonate no sta sotto per forza il punto di salvataggio perché qua non c'è non capisco non capisco perché si senta infatti sotto le scale per salvare da dove siete venuti sotto le scale dai vai a salvare comunque è mezz'ora che giochi cioè il primo momento che muore che dobbiamo tornare indietro di mezz'ora è finita la serie non è che passo le giornate e fa sta minchiata se la tira mi fa farla stare ha altro da fare esatto io devo devo trovare una formula per battere Favij sicuramente non è questa questa brutta notizia può provare a iniziare a spogliarti magari tutti sotto 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 se partite le telefonate sotto 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 era lui? ma l'ombra inquietante alle vostre spalle è Antonio Iori cioè poi se vuoi entrare con la faccia alla luce un secondo eccolo qui ok andiamo eh perché non ho nessuna intenzione di giocarmelo allora ho detto vado a vedere loro per capire cos'è adesso insomma scusami mi sono perso hai mosto hai mosto c'era un usa che cazzo era hai mosto hai mosto sto siluretto con cui ci siamo spostati si o no? si no non ho mosto niente mi ha detto che non funzionava il sistema erano interrotti quindi lo dobbiamo aggiustare come al solito ah sono sceso giù praticamente mi è servito solamente per riscendere giù questa cosa ma mi spieghi perché siamo in una nave spaziale dove non funziona un cazzo e dobbiamo aggiustare tutto tranne i robot che ci vogliono ammazzare che quelli sono perfettamente funzionanti ma perché è proprio tradizione no? adesso in pratica guarda noi dobbiamo cercare di andare noi stiamo qua dobbiamo cercare di andare qua sotto quindi dovremmo andare sotto ma ci sono gli alien si gli alien gli androidi del cazzo ah perché quella l'area comunicazione è quella che ci stavano là esatto e qui dovremmo trovare vedere se c'è un accesso per andare sotto in pratica beh puoi anche fare un po' di stealth e girare a destra cioè non è una cosa complessa no no infortuna ci siete che si è un caffè hai appena salvato ma a parte sudare Alessio quindi cosa fai? no io sono l'uomo chat e ogni tanto spavento Pierpaolo ma se tu ci vede ma chi? cioè nel senso oh cazzo sta avvenendo ha detto potrebbe richiedere la mia attenzione porca troia ah ci ha ripensato è saluto tutto è un meccanico no comunque o li mettono dappertutto sotto ti torino o li mettono stai tranquillo porca troia sta arrivando dai vai lì sotto vai lì sotto no no mi vede mi vede vai sotto da qualche parte cerca fermo fermo si è fermato ricordati che ci sono ci sono a sinistra c'è il c'è il cabinet c'è il cabinet no fermo fermo sta andando via sta andando via a sinistra guardalo guardalo se ne hai bisogno si ci sono i cabinet per infilarsi dentro il problema è come facciamo secondo te distraete l'androide col razzo ah sempre sti razzi cioè ogni volta che li accendo a zoom chance salta la connessione video salta sempre usiamo un razzo? come 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 una catapulta eh usiamo il razzo? eh poi dove lo lancio? no no allora prima devi capire esattamente dove io devo andare a destra secondo me perché a sinistra ho paura che uff allora vai lì di fianco glielo lanci là no perché io devo andare di là tu devi andare di là si la e allora glielo lanci qua il problema è che non so se è aperto lì ma tu glielo devi lanciare qua loro vanno verso il razzo ho capito non è che sono un coglione sto dicendo che io non so se è lì aperto non era certa questa cosa apriamo le telefonate ragazzi perché io non so quale dei due è aperto puoi anche sparare in testa agli androidi muoio no? si però sono in due però sai che ne spari a uno e l'altro arriva se dobbiamo cominciare a diventare una sparatoria qui a destra c'è un portello distraete il barone infatti pure io pensavo ci fosse un portello ma non riesco a capire dove che secondo me pure c'è un portello da come fa vedere qui vedi qua fa vedere come se ci fosse un passaggio un passaggio di qualche tipo dicono di uccidere questo androide comunque ma ce ne sono uno alla fine no ce ne sono due sono due di sicuro si si ho questi due si sono due uno da un lato e uno dall'altro vedi sparagli da qua beccami in testa lo faccio così me la metto la pistola? si vai vai per la settimana per la settimana dei giochi dinamici vai 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 aspetta vabbè aspetta che si muova cazzo aspetta non gli voglio sparare ma cosa gli vuoi fare? gli vuoi preparare il pranto? ma gli vuoi vedere se non riesco ammazzata dietro ma non è un androide ecco vabbè muoio con colpo ma vabbè ma sei un coglione ma che cazzata ma gli vuoi dare una mazzata dai spingi 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 bellissimo però eh eh bellissimo sei morto sei morto vai vai però ce ne è due vabbè l'altro muore muore vai ma dai allora avete detto la cazzata vai sparo continua a sparare è immortale continua a sparare ma se ne va ma si offende se ne va o magari si rompono si sei morto si sei rotto anche tu c'hai ancora un secondo no non ce l'hai più peccato androidi hanno un pattern di tre colpi tre colpi questo è un pattern c'è che ci vogliono tre colpi per buttare giù infatti l'altro l'avevi buttato giù alla fine lascia questa meraviglia quindi devo andare mi conviene entrare là dentro dove era andato diretto senza dunce dice non sparate infatti quello non avevo dunque vabbè cioè nel senso dunce centini capisco che sia la strategia pessima ma perché è partito sto casino ma lui non riesce non riesce a lanciare un cazzo di ma allora in teoria tutto mi devi spiegare perché io dovrei sprecare un razzo ma non è sprecato è fatto apposta per quella tattica magari ci sarà un altro punto in cui mi serve di più e va bene ne farai un altro non lo so spieghiamo sto razzo vai poi vai giù a destra e andiamo via è che proprio che mi chiedo secondo te non è che magari devo andare qua sopra perché c'è qualcosa da aprire guardi guardi allora tu sai perfettamente dove sei orientato io devo andare giù no sto dicendo non è che magari mi devo andare in quell'altra stanzetta lì sopra magari capito dico magari io lancio il razzo vado sotto e chiusa la porta no ok allora facciamo come dici te cioè comunque c'è un portello a destra dicono tutti adesso sei troppo lontano te lo tiro in faccia vai corri a destra vai a destra l'altro non ha cagato l'altro non ha cagato di striscio però l'altro si sta a fare una sega porca là c'è la porta guardalo 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 è andato è andato vai 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 tranquillo vai tranquillo vai 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 ok cazzo è pieno ce ne stanno 600 ma dove dove ce ne sta un altro in fondo si stai tranquillo stai tranquillo come faccio a stare tranquillo mettiti nel cabinet dormi un po' fumiamo una paglia prendiamo un caffè dovete dovete attirare quello non l'altro e potete usare i portelli regola 1 1 in survival mai sparare ma questo è vero però comunque lui dice anche piano oh scusate ci serve aiuto urgentemente non do non do preferenze ai commenti di centini perché ritengo che siano più fondati ce ne sta un altro perché ha giocato al gioco fino alla fine adesso ce ne sta un altro mi sa che è l'alien è l'alien è tieni vai piano chi è che parla da dove arriva il massaggio madonna sto proprio in un'ansia le comunque gli effetti sonori nel pad per me sono un tocco di classe fantastico fantastico guarda che c'era l'alien alessio craftati una canna dicono lo senti lo senti no invece senti ma chi è che parla è il messaggio pre-registrato che continua a girare in loop entra in sta cazzo distanza guardate la mappa e poi ma c'è un robot si dov'è riattiva la comunicazione con Sam grazie al cazzo ma è quello che continua a chiedere aiuto guarda la mappa guarda la mappa perché hai cambiato l'obiettivo sto andando si per caso no perché era quella che si è aperta cerca la botola dicono ma dalle botola non lo so l'alien non c'è lì c'è una botola per terra adesso no no non la faccio però sono andando delle informazioni errate comunque la gente è una porta che si apre bravo però non c'è bisogno di reagire così ti sei messo in una posizione c'è un robot morto ti puoi vestire da robot gli puoi rubare i vestiti e fargli credere che sei un robot mo che faccio porca porca troia che colpo che mi ho fatto prendere dio for porca troia santissima mi ha fatto venire un infarto mi ha fatto venire li piazza in corpo sentini invece di cene nessuna volta ah e scusami Pierpaolo questa è un'altra indicazione molto utile che arriva da devi guardare spesso il soffitto perché se cammini sotto le botole rischi di morire ok ti è chiaro si fammi vedere come guardi il soffitto così ora che mo torna quello indietro mo che cazzo faccio se quello ritorna non lo so cerca un posto per sederti per rinchiuderti un attimo dove devi andare quella mappa cosa dice sotto in quell'altra stanza vedi riattiva la comunicazione quindi devi andare dove dritto di là aspetta ma ok fammi vedere mappa 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 aspetta perché se quello ritorna io che cazzo gli dico eh che cazzo gli dico buonasera eh sono un rappresentante di tappeti vado a arrivare fino in fondo e poi andare di là ok cioè vai a destra si esatto quindi stai attento a quello la e poi ricordati sempre che abbiamo l'indicatore di si 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 pianisani cambia il pannolone il pannolone di pierba c'è un problema adesso io non salvo da un botto non salvo non è un botto non ti preoccupare comunque hai detto stai attento alla bavetta quando vedi bavetta per terra c'è la eh vabbè ho capito ma pure alla bava devo stare attento dio santo ho capito però che cazzo ma è gioca super mario con perry secondo te entro qua diretto lo vedi sulla mappa il passaggio devi prendere il passaggio eh vado dentro della stanza o prendo il tunnel prendi il tunnel quindi ma quanti tutto buio ma quanti ma quanti condotti avrei passato in vent'anni di videogiochi quanti ne avrei passati 12.000 puoi ancora avere l'ansia perché ma quando stai nel condotto non dovrebbe funzionare perché come il gsm non funziona ma che sta stronzata stiamo nel 2040 e funzionano gli androidi e per aggiustare le porte devi tirare una leva dall'altra parte dell'astronave continui con la colla scusa secondo te adesso però io vedi sono arrivato qua però il punto dove devi andare non è più quello no scusa quando metto la mappa va in pausa il gioco o no lo chiediamo secondo voi va in pausa apriamo le telefonate bene sono messo all'aspirizzatore ah della wayland yutani quella la famosa no allora o leggi a voce alta perché io non posso la scatola nera di cui siete in possesso è di estrema importanza ai sensi degli accordi studentali in vigore dovete ricordarvi che non siete autorizzati a leggere il contenuto né a rivelarmi la messa che era quella che abbiamo trovato quella della nostra bravissima quella di mamma e quindi qualcuno si è copiato adesso però è quello che mi chiede un'altra cosa e cioè devi andare scusa ma quella cosa verde lampeggiante ha un significato particolare perché è la prima volta che l'obiettivo è verde lampeggiante dove sulla mappa perché proprio significa che il punto preciso dove sta chi l'obiettivo capito e quindi adesso dobbiamo andare là sei passato da eh vabbè non me lo ricordavo però alessio ma io ma che cazzo ma che fastidio ti do spiegami è una perdita di tempo diciamo così ti sto facendo rallenta il gioco il problema è che io non salvo da una vita ok vai vai semplicemente vai con prudenza per evitare di morire per rifare tutto sto pezzo comunque dicono che va in pausa quando quando metti la mappa quindi se vedi lion metti la mappa così stai tranquillo ma poi che facciamo dopo che ho messo la mappa ho visto lion boh intanto sei tranquillo e non ti fai venire il patema dai il patema qui a destra qui a destra perché a destra no destra a destra dietro sì ma io voglio prima trovare il salvataggio adesso ancora è là è là è là in fondo è là in fondo cioè la tua la tua paura è è inversamente proporzionale alla distanza del punto di salvataggio cioè con più ti avvicini con più ti viene l'ansia non sto strafando eh se stavo controllandomi intorno c'era un altro seppio avanti oh posso costruire un altro tipo di granata eh capito costruiamo uh questa è una granata importante scusate mi spiegate questa cosa dei kiwi black gas che io non ho la più pallida idea ti ha fatto una granata mi spieghi la cosa dei kiwi è un'universo di alien o è un gergo giovanile può essere certo l'universo di alien magari c'erano i kiwi nella passiamolo kiwi alessio sembri deficiente no kiwi eh non so ero piccolo li chiamavano kiwi mia nonna forse esatto quando ero piccolo e chiamava kiwi i fuste e cociciac eh i cicciac i fuste cociciac eccolo là vedi accesso al portello accesso al portello vedi vedi il problema è che io non ho capito secondo te che accesso al portello sbloccato comunque io su un video ho visto un android aggredire mentre si guardava un terminale no ma chi è sta cazzata è quello che dice Ergut quindi c'è tutto questo tempo che qui in realtà non va in pausa ah vedi che ho fatto ho spostato tutto ho capito adesso mentre fai questa cosa non va in pausa ma non mi hai detto che non c'è l'alien qui mi hai detto scusa nessuno ha detto che non c'è l'alien ma mi hai detto te prima che non c'era l'alien qua no ma perché non posso salvare adesso perché sei basso attendere forse perché hai salvato troppo breve non hai fatto un cazzo per Paolo come no ha aperto che cazzo questa è una stanza da alien questa è chiaramente una stanza da alien la granata mp serve per disattivare gli androidi se la vuoi craftare ho già craftata attento sopra guarda sopra guarda sopra no non ci può essere deve esserci un buco come hai detto ho capito però allora devi guardare il buco se c'è un buco proviamo vai internal dumping che significa usa per bilanciare i valori vai bilanci ai valori no ancora dall'altra parte ancora no dall'altra parte eh non va alessio è il massimo si usa per bilanciare x per confermare 53 e 55 c'è scritto vai prova caccao ah no diceva erano speculari a quelli sotto non avevo visto basta hai fatto queste robe io le trovo non l'ho fatto perché ho cambiato un ca no devo fare quest'altro usa l per evidenziare i valori x per confermare vai evidenzia è tipo un rhythm game che cazzo significa che devi spingere a veramente cose vabbè figo dai ma vai a caccare dai 73 e 57 c'è scusami shhh Samuels sei vivo sono Ripley Taylor e Ripley eravamo preoccupati e pensavamo siamo alla stazione di transito vicino al centro medico ok Samuels aspetta qui non è sicuro la Sigson ha sigillato questo posto i suoi androidi vanno in giro ad uccidere gente è impossibile è contro i protocolli programmazioni vedi c'è la Sigson la pensa diversamente vedi ma nessuno dice nessuno si fa una risata probabilmente nei documenti ci siamo persi il modo di pensare di questa scienziata no scienziata si è Sigson chi cazzo era non lo so è quello che gestisce la cosa servono attrezzature sanitarie dobbiamo trattare la perita e fa sale la radio si è rotta non riesco a contattare Verlaine siamo soli ma scusa lui è con noi o no si certo quello che stava sulla nave è rimasto sulla nave no è entrato qua dentro e dice che infatti noi stiamo tornando e pensavamo che fosse morto invece lo abbiamo recuperato oh niente è ripartito il gioco non è oh porca troia sto dando l'allarme adesso dove devi andare guarda la mappa porca troia guarda la mappa guarda la mappa ho paura adesso ho paura devi guardare la mappa che cazzo significa devo guardare la mappa la mappa fammi vedere la mappa non so dove dobbiamo andare dove dobbiamo andare non c'è un obiettivo più torna da Samuel fuggi attraverso la SIGSON COMMUNICATION esatto torna da Samuel se taylor vai ma come ci torna vai dal buchino buchino e poi dopo vai su di là vai e dovrì fa tutta la strada al contrario e che cazzo e vuoi giocare alien gioca alien vuoi girare per la sebastopolos giro e robot porca ho visto quanti erano ha detto quando la troverò ora arrivano gli android non fatevi vedere quando la troverò le spacco il culo gli ha detto ah perché loro adesso sono aware del fatto che tu esisti e consapevoli del fatto che tu stai rompendo stai facendo bordello aspetta ovviamente a uscire fai un controllino col movimento e non funziona vai un paio letto avanti al massimo torna indietro non penso che siano in grado di piegarsi e venire lì dentro perché sono androidi mica sono ma perché secondo te ci sono messi a sviluppare l'androide che si piega che ti fa zazzazzà con la manina dentro un buco ma intendi nel gioco o intendi nella realtà hanno sviluppato gli androidi che si piegano buchino buchino e poi torni su di là esattamente la strategia che ti ho detto perché non fai video su youtube sareste meglio di PewDiePie esattamente lo facciamo e facciamo tipo un milionesimo di PewDiePie ma non solo ha dato tipo un messaggio e gli ha detto guarda mollo tutto pur di raggiungerti e lui ha detto se scopa e ha fatto sì e allora vandamo se scopa no ma il resto è vero cioè quindi se manda un messaggio più di più di più dici che può nasce con la storia d'amore se tu mandi un messaggio più di più di più e fa io mollo tutto per venire con te che facciamo santo te devi andare là Alessio è molto lungo ma non c'è alternativa e questo è il gioco ho detto se vai con calma ti guardi attorno ci arrivi questo è il gioco vuoi giocare a Alien? gioca a Alien ma perché perché una registrazione parte tu fai no perché vuol dire che sta arrivando qualcuno Alessio e va bene vai con calma io andrei qui a destra taglia per a destra taglia per destra guarda la mappa taglia per destra taglia per destra guarda la mappa devi guardare la mappa eh lo sto guarda ah no la mappa eh sì sì va bene taglia per destra ok vai 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 continua orca troia arriva porca puttana Alessio adesso che faccio spiegami non lo so secondo me vuol dire che è la strada sbagliata questa Pierpa evidentemente è la strada sbagliata eh evidentemente è la strada sbagliata no però non sta avvenendo è chiaramente la strada sbagliata no invece secondo me no vai vai però devi trovare un posto per nasconderti perché noi dobbiamo andare qua perché se tu vedi vedi a sinistra lì su comunque devi passare di lì sta tornando indietro scusa guardi se c'è un po' sta lì sta lì ci giri mi fai vedere cosa c'è un attimo fammi mettere che non mi può vedere cazzo prova a camminare da quella parte vai eccolo che si è girato sono cazzi tuoi adesso sono cazzi tuoi fammi vedere la mappa voglio che voglio che ti faccia porca troia potrebbe richiedere mi ha visto mi ha visto che cazzo faccio vai vai via o gli spari o lo uccidi o te ne vai però bisogna che vai bisogna che corri quando sei in quelle situazioni ce n'è un altro che arriva dall'altra parte che faccio che faccio vai via vai apri sta porta chiudi la porta ma sei tornato lì si fa tutto il giro sono sono non sono intelligente no ti è andata di straculo proprio no perché lui mi stava seguendo e adesso dove vai ma sto ritornato al punto dove ho fatto le richieste va bene va bene io sarei passato da fuori sinceramente però va bene anche questa stanza vorrei sapere se il tipo ti sta seguendo si certo questo vedi è un po' incasinato cosa vuoi fare fai il giro dall'altra parte ma cosa perché vedo che mi lampeggiano dappertutto non riesco a capire non ti stanno lampeggiando dappertutto quello secondo te sta girato verso di me o no hai girato in là ma tu non c'è andare perché devi passare per quella porta no no non devo passare per quella porta vedi c'è questa subita a sinistra se tu dici che non mi sta guardando ah ok tu passi a sinistra ok vai ok comunque è un survival non dovreste farvi vedere ma se vi beccano correte verso l'uscita qui non c'è pericolo alien comunque mi sembra che questi robò stiano molto incastrati nella loro stanzetta di merda se becchi la porta è finito il pericolo è pieno è pieno di lampeggi non è pieno non ti lampeggia niente niente non c'è una non c'è nessuno sta lì guarda e va bene non è pericoloso è fermo che si fuma una paglia non è fermo sta camminando è in pausa pranzo anche lui Alessio ha appena bevuto la latta d'olio cosa perché salti guarda la mappa la mappa io voglio vedere Alessio è pieno di lampeggi non riesco a capire che cazzo devo fare stai fermo in un posto buio nascosto e prendi sto cazzo di portello vai ah man così vai dentro mi fai vedere sta cazzo di mappa dove siamo per cortesia voglio orientarmi che io ho dei gravi problemi oh guarda dove arrivi sbuchi là dove non siamo mai stati però dove cazzo sbuchi non ha mica senso questo coso ah sopra il portello si sale ce l'hai proprio nel culo proprio comunque ti dicono che se non salvi qui è molto pericoloso come faccio a salvare se non salvi hanno detto che probabilmente devi ricominciare addirittura perché sei in una situazione molto la mappa mi fa dettagli ma chi è no devo uscire ecco lo vedi lo vedi lo vedi lo vedo ma non è pericoloso come non è pericoloso vai da allora devo uscire allora aspetta te lo spiego non è complesso io devo uscire da questo posto vai nell'altro vai dall'altra parte perché lì c'è quel tipo che ti cammina sulla testa cioè mi sembra di un'ovvietà questa cosa oppure l'allunghi anche no perché probabilmente farà tutta la ronda per l'amor del cielo intanto tu ti cavi dal cazzo e poi dopo ne guardiamo e di là devi andare di là dall'altra a sinistra e poi a sinistra ho capito se mi continuo a camminare sopra comunque continua a dire salvateli a sinistra dovete tornare da dove siete venuti salvateli a sinistra no ma non li sa ma secondo te torno indietro sì per un pochetto però lui no no però lo sai anche se esci fuori qua muori perché è nella stanza secondo te lui è qui è in questa stanza ma grazie al cazzo ma è sopra quanto secondo te facete puoi uscire entrare là dentro o no non ne ho la più parita per me ti conviene uscire e rientrare subito così ci diamo un'idea veloce è lento guarda è lento stai basso è là dov'è è là è là in fondo porca broia ma sei stupido mi gioca cazzo anche io sto giro ma sei cretinissimo proprio ma che cazzo fai ma che cazzo ridi spiegami comunque vorrei dire cioè siamo morti una volta sto giro comunque non si muore a sto gioco ma adesso siamo all'inizio del gioco ma quanto cazzo dura ma adesso vado diretto no vado diretto dietro di te ok vai siamo arrivati spingi il bottone spingi il bottone perché gente è morta sto spingendo mamma mia comunque se ti viene addosso ricordati dovresti armare la la mp ma che secondo te spiega una granata mp per fermare l'android è uno che ti ammazza ma quando è che le usi tu la roba tu vuoi arrivare in fondo al gioco con tutte le equipaggiate magari c'è un boss mi viene il livello e allora fra poco morirete un sacco dice perché sarà pieno di alien pieno di alien ce n'è uno nel senso una stanza piccola completamente riempita dall' alien oh ragazzo era aperto mi manco non era accorto io ho bisogno di un caffè vai dritto per dritto attento no io passo nel cunicolo si passa nel cunicolo vai 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 tranquillo al cunicolo qualcuno dice ascensore però eh già l'ho preso l'ascensore adesso è quello che ho preso adesso chiedono se ce la facciamo fare 15 o più ore così è praticamente impossibile io mi rompo le palle molto prima ve lo dico tranquillamente l'unica l'unica è se raggiungono 997 mila di condivisioni visualizzazioni su facebook non si vede un cazzo alessio come facciamo qua non si vede niente oh aspetta non è che ogni cazzo di cunicolo che prendi continui a dire che è buio cioè hai la cazzo di torcia si ma la torcia si scarica ma dentro ai cunicoli sei sicuro al mille ma non è vero perché l' alien cammina nei cunicoli non cammina in questi cunicoli l'hanno fatto troppo grosso per questi cunicoli poi che si dice cunicoli no cunicoli dice cunicoli cunicoli dovete risalire le scale evitate il caps lock però dai ah la gente qua guarda alessio ecco questa è la bava oh questa è una cosa ma scusa qui questo è pericoloso c'è bava ed è pericoloso ma come facciamo non lo so tieni già va a fare te sto pezzo e hai salvato da poco vero si si fai idea non ci passa sotto però ricordami ricordami stai facendo rumore guarda ha finito di fare la bava vedi che sei proprio un coglione ricordami sei proprio deficiente ricordami come ci si abbassa sei già passato con l'analogico destro non passarci sotto passa di fianco passa di fianco stop ma puoi essere andato due metri indietro ti sposti per favore non andare sotto cammina di fianco ma perché perché si ma non c'è più la bava che cazzo oh ma questa qua ecco lì madonna sei morto sei morto come faccio armare come faccio armare fammi che cosa vuoi armare vabbè però non mi puoi distrarre mentre gioco rispingi xx no no non c'è xx adesso sembri deficiente ma come cammini cioè io non lo so ma guarda che ma è ovvio che adesso ti ammazza sparagli in testa sparagli in testa ma cosa fai cosa fai nananana nanana guarda se sono mongoloidi cioè ti possono schiacciare la testa contro il muro ma non possono aprire lo stipetto beh norma perché lo stipetto è il problema eh adesso te lo apre l'ho che sei bellissima questa oh che palle non so che cosa fare sparagli in testa si ma mi devi dire come si spara sei morto vabbè vabbè comunque sei una segra no ma aspetta tu mi hai distratto completamente io pensavo adesso io ti ho dato il coso e ti ho detto non passare non fare e tu hai pensato che ti hai tirato una martellata su una parete ma ok spiegami perché perché non sapevo qual era per accucciarsi ma di certo non il più diretto destro perché tutti i giochi serve per colpire va bene invece serviva per accucciarsi è molto indietro partiamo eh sì ho salvato 45 minuti prima ma dai un minuto fa ho salvato un sacco prima era prima del passaggio adesso ho salvato tanto prima vai vai fai vedere la mappa non posso finché non me la fa caricare eh devo ancora riprendere l'ascensore eh prendi qua basta e dopo è esattamente dove siamo arrivati perché c'era il cunicolo e basta però veramente c'è ti ho dato sto coso perché non ce la faccio a giocare eh che cazzo ridi che mi hai inculato leggete i suggerimenti vedi ma che suggerimenti sono tutti ah 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 da che parte si apre poi questo ascensore del cazzo allora qua entriamo nel coso e io non passo sotto il cunicolo perché secondo me arriva Alien ma scusa che cos'è vai 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 questo è quello di prima attento no adesso è impossibile vai adesso vai tranquillo vai tranquillo vedi la bava di Alien aspetti che sparisca la bava di Alien ma non sparisce secondo me è sparita prima perché se non hai dato una botta ah quindi allora serve mi stai dicendo questo no no questo no io ho sentito un rumore strano si ero io e camminavo comunque tutti dicono non entrare in questo cunicolo vai perché loro danno solo indicazioni non danno mai emotivazioni vai sarò bello che ti hai aperto l'armadietto perché ero sparito cioè guarda l'Alieno il coso di prima dove stava ma quindi secondo me sai cosa è questo passaggio qui non è proprio il top perché se noi andavamo dritti per dritti di là non passiamo lì non passiamo lì però ci becchiamo il robot che è prima delle scale se facciamo un altro giro il fatto è che dovremmo andare dritti lì però tu non ho capito dove stava l'androide no lì a metà lì a metà che viene dalla stanza a destra no no vai 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 tranquillo aspetta che l'Alien si cave dalle palle sempre che ci sia se non gli passare sotto secondo me non è un problema se non gli passi sotto che cos'è è finita la bava è finita la bava è l'Alien che se ne va che cosa vuoi che sia ce l'avevamo sopra la testa allora come basta girarci intorno come facciamo a distrarlo sta lì l'androide laggiù gli lanci gli lanci un mp e poi dopo tu devi andare dritto posso spiegare un mp siii serve per andare avanti nel gioco ne craftiamo altre 300.000 ti faccio aprire tutte le scatolette che troviamo non ti preoccupare no non è così Alessio ci deve essere un altro modo e allora vai piano non fai come me che andavo a spingere a parte che c'è la scatoletta lì da prendere la roba aspetta però forse effettivamente se noi secondo te se noi arrivavamo da dietro no comunque Zunchens dice di risalvare adesso e dove e dove io ho paura secondo te se passo sotto al coso muoio allora se passi adesso no perchè non c'è più la bava se passi sotto al coso si quando c'è la bava perchè c'è l'aniel ti prego usa quella granata gliela lanci lì lui rimane incognito e andiamo avanti dov'è guarda il pirullino c'è un allar che cos'è quella cosa a destra cioè ti ha fatto il giro sei morto sei morto come fai a non essere morto come fai a non essere morto girati lentamente ma che cos'era questa cosa qua ti arriva da mi sa che è l'anielo che sta camminando sopra e quindi il robot è ancora di fermo immobile non c'è più vai siamo 360 persone è buono adesso c'è qualcuno sa che arriva ma è sempre sopra la tua testa scusa se davanti c'hai un muro c'hai qualcosa davanti io non mi preoccuperei guardi la mappa è per cortesia zoom chess dice di andare avanti ha detto che se non salviamo presto moriamo come faccio a salvare non lo so ma io ti dico sempre questa cosa per metterti ansia allora secondo me adesso faccio il giro nel colitoio o entro nella porta e faccio il giro io andrei a destra perchè di solito la via più breve è quella più pericolosa nei videogiochi però se hanno un minimo di intelligenza adesso c'è qualcosa dove? senti quanto rumore fa ce l'hai a sinistra ce l'hai dietro ce l'hai a sinistra qualcuno si muove nell'ombra di questo passo un gioco che dura 15 ore ne dura 47 però io rigioco così gli stealth quindi adesso sanno perchè nelle recensioni dico che dura 50 ore sei sopra di te basta che stai lontano dai condotti come dicono tutti e beh che non scende che lui sta solo nei condotti la sua vita no dice che sei sopra di te ma di cazzi tu evita soltanto buchi hai aperto una porta controlla controlla devo andare a quella porta dritta ah si controlla metti fuori la testa fai il tuo bending lì ricordati che c'è lo stipetto a destra se c'è bisogno comunque dovevi cercare di salvare dove saldi adesso oh lì fatto fatto sei contento? nemici vicini nemici vicini è venuto a scherzare adesso ma che cosa stai dicendo? non ti ho fatto trovare? ti giuro ti giuro ce l'ha scritto nemici vicini ti giuro non sto scherzando nemici vicini nemici vicini comunque io vorrei una serie più comoda questa cosa mi fa male alla schiena lo sgabello per due adesso io mi vesto da Pierpaolo a Lucca questa è bella si siamo alla Games Week e a Lucca ci sei tu però fisicamente alla Games Week? ci sei fisicamente alla Games Week? non credo a Lucca ci staremo proprio a Lucca sicuro al 100% con una violenza incredibile tra l'altro a Lucca che è guarda tutto guarda è lungo è lungo ed è dritto è lungo ed è dritto ha detto nemici vicini l'hai visto? certo che l'ho visto sto facendo il giro apposta ah vaffanculo la torcia a coglioni qua mi serve la torcia non necessaria o torcia necessaria? torcia a coglioni necessaria come cazzo ci passo allora qua? sei andato giù? sei andato in quello giù? o sei venuto da giù? da dove sei venuto? ci sono due stanze io sono venuto da di qua e allora devi andare giù la quindi? esatto vai attento vai 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 ok no io da qua sto venuto si allora vai nell'altra nell'altra che c'è? oh ce ne sono due c'è un cazzo nell'altra è chiusa è una stanza chiusa ci sei entrato però? si prima ci sei entrato hai spinto qualche bottone hai fatto qualcosa hai preso tutto quello che c'era da prendere? cioè i giochi funzionano così non è che c'è? adesso non c'era un cazzo c'è un cazzo di computer l'hai fatto funzionare? aspetta c'è di arriclablaggio porca puttana comunque zuncens dici di distrarlo quello di passare di là ah forse posso chiamarli il sistema altoparlante hanno lanciato l'hashtag del nemici vicini perché? ah hai già suonato l'allarme bisogna preoccuparsi moderatamente solo quando il rilevatore vede un nemico altrimenti puoi sbatterti nel cazzo però non è vero perché quello il rilevatore cioè se il tipo è fermo e ci guarda ci ammazza capito? vedi? gli ho suonato una cosa là dentro gli ho suonato gli hai suonato una cosa là dentro? cosa significa? cioè che l'hai fatto andare via? sì perché io ho suonato l'allarme porca broia volante però però le indicazioni sono chiare se c'è la bava non passare sotto al buco porca puttana guarda non mi sono neanche cagato addosso perché era talmente è stato talmente immediato in dolore è venuto un infarto a me mi è venuto porca puttana mamma mia guarda che abbiamo un'ombra inquietante dietro le spalle su scusate per il cap cerco solo di condurli verso la salvezza o la morte per chi ha già giocato ma dov'era? distraetelo quello dove era? io non l'ho visto quindi ma in pratica che cazzo c'era? purificate l'aria in modo da creare fumo e muovervi molto meglio l'ho fatto l'ho fatto ma sono finito sotto il cazzo di alien lasciala che hai cambiato i nemici troppo vicini perché? perché ci hanno mangiato vai fai tira via sta purificazione dell'arva del merda spegni anche la luce perché non spegni anche la luce? sì certo dai spegni la luce aspetta ma che spegni ma sei scemo? ma c'hai la torcia tu? Alessio sei scemo? vabbè ecco vedi io l'ho acceso così glielo acceso penso che sia la la nebbia volumetrica più brutta dell'universo sì pianto sembra che mi sia e siamo noi che ci sembra il nostro respiro ci viene fuori dalle accelle probabilmente ah eccolo cosa eccolo? ok e qui com'è? ce n'è un altro là a destra mi sembra eh no? non so Alessio aspetta è ancora molto lunga eh aspetta devi passare di là fai giro largo che secondo me c'è qualcosa da raccogliere controlla pazienta Alessio mi sta venendo in ansia porca troia che c'è eh? che cosa c'è? niente se ne raccogli un po' di roba non c'è niente da raccogliere perché in mezzo non ci sei stato però non c'è niente da raccogliere sei sicuro? perché poi se non hai i bang bang ma scusa i quadrati i quadratini sono i posti dove ti puoi nascondere quali quadratini? no sono i terminali però vi dite non avevo visto c'era questo pezzo per poter passare ma perché non hai trovato ancora la mappa o l'hai trovata? no non l'ho più ritrovata qua 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 terminale terminale accedi fai tutti i tuoi giochini match a 3x3 4x4 7x7 cartella danneggiata ci dispiace perdere tutta questa parte narrativa ma ovviamente facciamo notte ovviamente in quella stanza in fondo ci devi andare perché sicuramente c'è qualcosa dai ti tirati su un badge mi faccio il diglampelaggio no? fai quello che ti pare siamo a 380 persone allora noi stavamo là sopra mi dice la gente io come faccio a vederla questa variabile? cosa? per quanta gente c'è? aspetta un attimo va beh ah guarda posso fare la stessa cosa posso spegnere le purificazioni e accendere il sistema al tuo parlante ma non la spegni ma non la spegni cioè aspetta di voi attirare ma non li attiri tutti lì? certo ho capito tu li attiri nel posto dove devi passare? no perché io li attiro nel posto no perché esatto teoricamente loro adesso me li ritrovo non me li ritrovo cioè scusa fammi vedere la mappa adesso tutte quelle righe sono che cosa sono quelle righe ah è un altro piano forse non lo so non mi interessa allora allora secondo te per esempio qua vedi ci sta è come se fossi alla prima visione di alien 35 anni fa allora qua ci sta c'è un cunicolo secondo te questo cunicolo che sta qua c'è un cunicolo davanti entro ci trovo l'alien no è impossibile non l'alien è più grosso di questo di questo e lui allora dove cammina? sopra ma era nel buco non ti preoccupare tu non passi mai ti è mai capitato di scendere da una di quelle bottole? no perché sono due due posti completamente diversi ma questa è una cazzata alessio te lo assicuro comunque avevi il salvataggio dietro non lo so abbiamo sentito urla comunque avevi il salvataggio dietro no che cazzo dici? si l'hanno detto hai il salvataggio dietro non ce l'ho non lo vedo questo dice la gente io non so che cosa dice aprite gli scompartimenti che vi perdete la roba devi aprire tutti gli scompartimenti avrò sempre tutto io no gli stipetti ah perché dentro gli stipetti ci sta la roba evidentemente se dici scompartimenti io penso a quella roba lì che cos'è? stai aprendo o chiudendo? ho fatto un rumore alessio di una porta che si apre appunto ma è incredibile ragazzi vedete che l'hannion entra in questi condotti te l'ho detto guarda dove cazzo sto alessio ma voi lasciatemi lasciatemi portarlo nella direzione sbagliata per cortesia che almeno ridiamo guardo qua dove sto ma dove stai? è una stanzetta non c'è un cazzo è pieno di robe per proteggerti non ti vede nessuno perché allora farebbe rumore se non c'è nessuno alessio? no ma non ti vede nessuno non ho detto non c'è nessuno guarda qua c'è anche oh dove ce l'hai? sei morto sta arrivando? dove vai? cosa fai? ah ce l'hai sopra la testa occhio se c'è della bava occhi e bici ma reggi te reggi te reggi te reggi te ma cosa reggo? piano? no no non guardare sopra torno indietro esatto vai di là vai pari dammi no adesso fammi andare muoio? si no no metti la mappa 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 non mi ricordo come si mette centro centro ah dobbiamo scendere da di qua quindi dobbiamo scendere no non dobbiamo qua non possiamo entrare perché serve la torcia coglioni devi andare a sinistra da di qua no 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 dovevamo andare dall'altra parte capito posso correre? no magari dici che ci passo di qua? no non ci passi alessio non ci passi torna indietro non è chiusa torna indietro quasi quasi tornerai indietro metti i piedi no non corri che cazzo stai a fare? magari a maratona? scusa no no non sparare che stai pieno di alieni non sparare non correre scendi sotto e vai a destra ma scusa io voglio come si mette quel cancherino con questo no con quest'altro sotto scendi a destra c'è l'alieno eh no sta dritto come tu devi andare a destra vai alessio cammina e guarda fuori no non cammina fuori guarda eh c'è il droide si ok devo andare eh sta venendo sta venendo sta venendo sta venendo adesso ti ammazza c'è un cazzo di giornata piano 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 guarda il cazzo di cosa che sta venendo guarda se sta venendo no non sta venendo si sta venendo eh mo sei fottuto adesso adesso che gli dici sono in due che gli dici adesso sto fermo c'è uno stipetto qui no non c'è un cazzo ma gli stipetti quando ti servono non ci sono mai quale condotto ci siamo venuti eh va bene va bene dov'è dov'è il condotto là ma secondo me ti vedono quello lì che vede quello sportello aperto il condotto secondo me non ti vedono secondo me se tu ritorni là indietro e eviti di farti vedere da quello lì vabbè top hai rotto il cazzo usate i razzi per distrarlo continuo a dire centini non ho più razzi ma non ne hai mai utilizzato neanche uno si prima me l'ha fatto tirare l'unico che avevo è che non ne puoi craftare uno di quelli no i razzi non si creano lasci ne uno io come lo faccio a distrarre quello secondo te cioè comunque c'è uno che guarda al lavoro ho detto che lo fai pisciare da ridere però si sta trattando perché se no la gente si incazza dicevo secondo te come lo faccio qua Alessio dimmi comunque hai visto che non sono morto cioè basta stare tranquilli è pieno è pieno guarda ce ne stanno mille come faccio ci sono anche nuovi hashtag torciagoglioni e dov'è il condotto dov'è il condotto usate le casse acustiche allora se ti va bene cioè usa qualcosa ma come li chiamo ce ne sta uno la cassa acustica la lasci in un posto e quando vi è dove la lascio che lo aggiro spiegami avevi due porte poi la metti da una parte esci da quell'altra dove sei fammi vedere la cazzo di mappa la mappa la mappa la mappa è la dobbiamo andare non possiamo fare nulla tattico allora nella stanzetta centrale ce ne sta un altro esatto quindi non posso fare perché la metti lì la lasci in una stanza speriamo che passi quello là no no ma questa è una stronzata scusa scusami fermati 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 guarda la mappa perché non prendi quel condotto perché è chiuso ci vuole la torcia coglioni la torcia coglioni vero questo è il problema non c'ho la torcia non c'ho la torcia secondo te come posso fare facciamo finta comunque non cerchi mai dentro gli erano mai dietro è per questo che non hai la roba ho capito me l'hanno detto sette volte ma che devo fare però voglio provare a fare una cosa non lo sapevamo pensavo solo soltanto posti appostacci per nascondersi aspetta vediamo se faccio così eh l'hai l'hai cmb hai usato la no il mio programma ne risenterà la cassa acustica guarda quanti sono si si stai tranquillo dove devi andare dove devi andare però l'hai lanciata talmente vicina vai vai stai no non puoi stare a destra non puoi stare a destra devi passare lì per fatti eh ti ha beccato eh hai capito che ti ha beccato perché ti sei alzato però porca capito andavo piano morivo alessio perché non è detto ma come non è detto spara e pieno di alien non arriverete mai dove cazzo vado dove cazzo vado dai tranquillo vai fino in fondo vai sereno 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 sei per sei arrivato spingi il bottone spingi il bottone abbiamo saltato tutto probabilmente girati girati vavi vedere comunque basta io direi fine perché altrimenti mi erano ancora ce l'abbiamo ancora non dovevamo fare nulla in tutto quel tragico dobbiamo scappare e basta eh avremmo perso un sacco di roba da raccogliere sicuramente ok mamma mia dai guarda guarda la scenetta ah no mamma mia non ce la faccio non ce la faccio Alessio potrò la facciamo una volta a settimana perché veramente mi prende qualcosa mamma mia santissima comunque non giocavo tanto forse da vent'anni e non ho preso mai praticamente il pato in mano uff che dico no? spingi il bottone spingi il bottone spingi il bottone non corre cioè che è pieno di ali infatti quella è una cazzata perché se ne potessi sei uno al massimo mamma mia ma quindi adesso cominciamo un altro proprio livello adesso ti si sarebbe il terzo no forse il quinto lo sai siamo arrivati com'è possibile ho visto caricare questa roba qua due volte io in tutto no no a parte il tuo è un problema grave con la memoria molto molto grave sì però è vero no dovrebbe essere il quinto questo mamma mia quindi la gente dice che non abbiamo preso abbastanza abbastanza che non apri tutti gli stipetti devi aprire tutti gli stipetti verdi punto si dice stipetto in italiano sì piccolo stipo hai capito qua dove siamo tornati Ale hai capito dove siamo tornati non ne ho la più parità per Paolo io ho capito dove siamo tornati me lo dici così io ho capito dove siamo tornati questa è dove c'era è la prima volta Lion la prima volta Lion eh sì eh c'è anche un punto esclamativo eh adesso non so vai piano sei sicuro che è la prima volta Lion però no la prima volta ah sì era scelto di qua poi è andato di là più di là qua è dove si era ammazzato i robot dove si era ammazzato gli esseri umani Alessio che facciamo? a che livello stiamo giocando? normale? sì normale normale che facciamo Alessio adesso? prendete la navetta sì prendete la navetta verso la Shined Tower guarda la mappa e vai guarda la Shined Tower la mappa ma devo andare là al centro alla Shmed Tower Shmed Tower perché? torna da Samuels e Samuels sono a stazione e la torna Shmed è Shmed sì ma secondo te cosa succede qua? perché mi dice? cosa? perché mi dà due punti esclamativi? non ne ho la più pari d'idea io andrei a controllare perché quando c'è pericolo oh perché te ne ho? prendi te? prendi te? prendi te? perché? comunque siamo sotto un buco ci sono buchi? no potrebbe uscire di qua? no no che cazzo è un motore chiuso quindi vado? sì vai cammina te c'è un morto per terra tra l'altro è quello ah è quello vai dal morto vai dal morto sono abbassato ma perché stai a ti abbassi? non c'è nessuno ma perché almeno non mi rompi il cazzo è uno di quelli che si sveglia? non lo so prova no non lo posso neanche perquisire no no girati Alessio perché? porca trota ho detto che si attivava porca trota porca puttana ce l'ha già fatto una volta porca troia non correre però anche te sei coglione posso recuperare un po' di energia in qualche modo se no siamo morti sì sì aspetta però te l'avevo detto cazzo te ne faccio anche già un altro ma scusa non c'è nessun pericolo Pierpaolo puoi andare tu tranquillo fammi vedere la chat non è vero perché siamo ti trovavo morivi ma per me ci hai mandato tu era palese che sarebbe stata una rottura di cazzo prendi tutta la roba prendi tutto che io voglio fare cosa sta facendo? voglio costruire quelle cacate di ioni perché voglio passare per i cunicoli cosa fa? ti devi alzare sei sotto sei sotto ti devi allontanare è abbastanza evidente vai prendi tutto no riproduci la minchia non ce ne frega niente della storia noi vogliamo dei medikit e delle bombe ma tu che dici? risalgo su? comunque siete morti sappiatelo siete morti come siamo morti? perché? non lo so no lì allora per Cafuso uno l'attacco del droid è almeno quello morto per terra semplicemente si aggrappa ed è un quick time non è neanche un quick time event è un premix ripetutamente finché non gli dai che cazzo fai? ma sei scemo? stavo spaccando la luce perché si mi hai fatto un infarto ma non sei normale perché volevo simulare il calcio al droid no ma dico che dici salgo sopra vedo se ho lasciato qualcosa o vado verso l'uscita vado verso l'uscita ma perché l'uscita? scusami 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 spingi sto andando verso l'uscita dove dobbiamo andare dove stanno le navette no ma la direzione bene o male si sa perché è leggermente evidenziata sulla mappa più è come arrivarci soprattutto quando c'è un minimo di strategia noi crolliamo un tattico di strategia noi crolliamo miseramente cosa vuol dire? io voglio vedere la mappa vedi? scegli destra o sinistra destra o sinistra destra vai destra sempre destra cazzolini apri tutti gli stipendi sono aperti sono già aperti non sono apribili no dove vai? quello è apribile stai andando a sinistra? quello è apribile aprilo perché voglio vedere ma secondo me scusa quelli non hanno niente dentro perché se li apri lei ci va dentro infatti non riesco a capire prova a guardare provati a guardare eh sto guardandomi intorno adesso è pieno di post-it del cazzo dai allora questa qua degli stipendi è una stronzata bisogna capire che cosa intendevano dovessimo aprire qui sei a sinistra te lo vorrei dire si però c'è la mappa ok prendi sta mappa sembravi la tartaruga la tartaruga con più ti avvicinavi con più rallentavi probabilmente non l'avresti raggiunta mai in un mondo perfetto eh vedi 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 eh eh vedi un cazzo ascoltami 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 per andare alla torre ci sono diverse navette non sbagliate dice Centini Alessio scatta tantissimo quelli vi serviranno guarda guarda scatta tantissimo no è un po' di qui ci siamo già stati c'eravamo già stati è la prima volta si attento però Alessio attento di cosa salva la partita dai non mi ha detto nemici vicini quindi muo' è tranquillo non inascondigli cassetti a muro cazzo sono i cassetti a muro non avevo mai visto un cassetto a muro quella devo prendere no? la Cmed giusto? no si la Cmed si la Cmed era questa sei sicuro al 100% da dove lo deduci? da dove l'hai dedotto? non lo so non lo so e allora perché sei entrato? ti ha detto non sbagliare alla torre Cmed ha detto mamma mia se continuiamo così tra poco l'anno della nostra super diretta delle nostre pause con e guaglierà quello della The Alien saremo entrambi nel 2047 capito Alessio io non ce la faccio giocare veloce se c'è qualcuno che può giocare veloce e facesse qualcos'altro ma questo non è durato un cazzo no questo dovevo solamente andare di qua non c'era niente perché probabilmente in questo questo è una specie di hub che ci ritorneremo più spesso e prende anche le altre navette capito? ok sei sicuro? o mi dici ok per me piacere? la seconda vabbè però capito mi vista un po' no perché altro che non ce ne bisogna mi metti una porta che mi porta di là capisci? cioè è talmente inutile questo passaggio no perché in questo hub ci stavano varie navette ho capito ma tranquillamente potevano giustificarlo che ero passato di lì me lo dicevano sei tornato là e sei andato perché farmici andare fisicamente è così che si fanno le 14 ore di gioco no perché ti crea ansia perché non sai che ci può sta mentre vai intanto hai visto l'androide che ti ha fatto il biancorpo intanto eh l'androide ma perché sei un coglione sto vedendo espressioni di Pierpa che non credevo fossero possibili in un essere umano oh c'è qualcuno che fa spam free psc cosa vuol dire? playstation code che cos'è psc? si chiacchiera ma scusa ma perché fanno spam? ehi là perché fanno spam? ciao ragazzo ma scusa è quello che ci parlava prima dal sì sembrava più figo in video adesso gli uscirà l'anian dallo stomaco vuoi vedere? ah oh questa è almeno una scena figa ha bisogno di cure il centro medico è qui vicino ma non volevo lasciarlo sola vado a cercare qualcosa vedo cosa trovo tu resta con lei cercherò di riparare l'amplificatore e se questa creatura salta fuori salviamo un culo nascondetevi violazione di sicurezza individuata il sistema di transito è interrotto per ordine di Apollo quindi non ci possiamo più povera qua ha semplicemente interrotto il transito che cazzo è sto rumore? shut down sei sicuro? dicono di muoversi che ci vogliono vedere nella medical bay ma non credo che ci arriveremo ma figurati ma neanche sotto una tortura atomica ma che cos'è la medical bay? quello è amico antico ovviamente grazie al cazzo grazie per fortuna che ci ha avvisato se hai intravistito ma gentì vabbè che sia coglioni il doppiaggio non è il massimo concordo pienamente purtroppo in Italia siamo messi così non c'è tempo da perdere di qua dobbiamo andare scusa ma puoi recuperare la mappa o è impossibile? non lo so non me la dava però voglio vada a rivedere se per sbaglio c'era una mappa no non frega un cazzo però si vai fai un giretto rapido giù di qua scusa qua c'è anche salvataggio oltretutto io salverei è la perché questa è la stazione della metro questa cosa è tutta uguale è un po' inutile salvare perché comunque ci salva in automatico quando cambiamo no io non gioco mai perché ho un coordinazione occhio cervello mano con un lag di 15 secondi probabilmente si anche 20 15 secondo me è una stima molto ottimistica le porte comunque sono proprio mass effect cioè sta lì fermo finché ti carica dietro il livello e poi te le apre c'è qualcuno lì dentro? non c'è nessuno solo dei morti ah ma qua siamo tornati secondo me era dove all'inizio del gioco qua siamo ritorno si 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 100% si si perché in effetti l'avevamo presa una volta poi siamo tornati indietro la mappa la mappa non è successo niente è incredibile ma come no? non hai sentito i rumori? raggiungi il centro medico di San Cristobal ah figissimo ci facciamo pure i sigari centro medico no però dicevo nome entrata staff e centro medico ah perché noi entriamo come staff abbiamo il badge vero? questi secondo me loro dicevano non so se abbiamo il badge che cos'è quella luce verde lì? ah sono tutte le entrate veramente sono le entrate vai 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 ma per non è una metro è un coso si è la metro andiamo a vedere? cosa? c'è una porta chiusa c'è qualcuno che si muove dentro? si è un essere umano o un robot? che cosa sono? sono due umani che si sono alzati come due idioti hanno fatto si sono alzati proprio come deficienti adesso gioca a te ma perché? chi è che ti sta parlando? ah perché loro comunicano ma chi è? serve o me no non si capisce ma chi era che parlava? una registrazione random? vu ma dici che c'è qualche essere umano che ti sta dando una mano? eh certo ovvio eh allora ho sospinto stai calmo? ma vaffanculo ma che c'hai? vieni giù dall'alien il pezzo di merda eh che fa lo splendido eh là dentro è incistato non va da nessuna parte se non gli brillano gli occhi sono umani se non gli brillano gli occhi sono umani ah beh questo l'avevo capito anch'io la voce di Ward è fantastica una delle voci più belle chi c'era? perché fai doppia qualcuno Luca Ward? no perché stavano parlando del discorso che il doppiaggio italiano di videogiochi fa abbastanza cagare ah sì sì ok si stanno solo aprendo le paratie infatti diceva hai rotto il cazzo pierva un bel respiro il cagotto simulator mo si ride di brutto anche Giancarlo Giannini doppia la grande anche Massimo non è male ma c'è qualcuno che ci stanno guardando? no stanno guardando facendo la cernita dei doppiatori italiani quindi siamo arrivati hai aperto col badge hai fatto qualcosa? no ho preso l'ascensore del tipo e mi ha detto prendi l'ascensore cerca le lucine verdi e poi spingi un bottone eh certo questa sta cazzata ma perché? beh passa dentro l'alien guarda passa lì dietro sento dei rumori ma passa figure qual'è il condone? ah quello aspetta voglio passare anche da quest'altra ah giustamente qua è chiuso lui aveva anche ragione ho sentito dei rumori provenire da lì vai a controllare ma perché? lascia lascia indietro la pistola potrebbe esserti di peso hai visto? chiudi il condotto dietro di te per sicurezza che cazzata sei pronto? perché qui dicono che un incontro ci sta aspettando molto ravvicinato no vai te vai te non ce la faccio no vai te devi farlo non spegnere la luce ma non ti puoi alzare però dai io non guardo dimmi te ma cosa vuol dire? ma non è? non sarai questo condotto? beh è certo che nel condotto no no è impossibile io vabbè io non guardo sai cosa? sai perché il condotto non può essere? perché o succede qualcosa per cui sopravvivi qui non hai la possibilità di scappare no perché ci magari è una cutscene e vabbè allora goditela però che cazzo guarda la mappa se sento il collo per salvare devi trovare una mappa apri tutti gli stipetti adesso non c'è nessuno stipetto da aprire tu tieni gli occhi aperti vai fino in fondo lì fai un po' di fai un po' di di ricerca qua non c'è niente non c'è un cazzo no vedi non è nel condotto andate tranquilli siamo nelle migliori condizioni questo continua a parlare ma chi è James Ryan Jim Ryan quindi qua è solo per nasconderti non devo prendere la roba questa è un ipotesi prova l'ultima volta per sicurezza ma perché fa tutto questo casino? poi non avrebbe senso che faccio che tutte le volte uno deve fare sta minchiata per prendere un po' di colla un po' di vina ma un po' di spazio colla un po' di colla perché non riesco ad andare da di qua? ah perché è chiuso giusto quindi dove vai? per forza di qua per forza di qua dove? di qua fammi vedere aspetta c'è un salvataggio stai attento c'è il salvataggio Alessio però se ti metti i salvataggi non fa ridere perché dopo ti senti più sicuro insomma ti senti più sicuro te che vivi con i salvataggi forse qua sicuramente succede qualcosa Alessio aprite gli stipetti mortacci vostra oh c'è qualcuno c'è il dottore che ci parlava che se ne sta rinchiuso dentro una cella con un vetro c'è una radio eccolo eccolo devo trovare un medico sono un medico una mia amica ha bisogno di aiuto di attrezzature sanitarie anche io non è rimasto niente anche io ma c'è ancora molto di sotto ma c'è ancora molto di sotto nelle cripte ma perché c'è tipo la polvere di fara e per me ti dice vai all'ufficio di morley e sicuramente è quello di lingard non lo capisco anche io perché c'è la polvere di fara sembra un po' zelda quindi è condotto ovviamente scusa ma quella batteria che noi è super scarica che cos'è la torcia ma non si ricarica per i cazzi suoi no trova l'ufficio di morley no ci dobbiamo mettere la batteria andiamo a vedere che sta qua e la batteria dove la recuperiamo ne ho preso qualcuno non c'è niente da aprire lì guarda dietro dietro no anche di dentro cosa c'è non lo so però quando c'è un tavolo guardaci ma chi cazzo quando c'è un tavolo guardaci ma che è una roba la lascia ma perché dici no che hai aperto la porta vai oh a piano che cos'è quel coso lì è il piano psichiatrico proviamo ad andare qua ah vai per forza mi fa po' perché mi sembra però non si riesce a capire dove ma vaffanculo lui se ne sta a sedere là perché se lavoro di squadra perché ti dà le indicazioni da dietro un vetro non mi ha dato nessuna indicazione per ora anti alien c'era ho visto qua secondo te abusalo io sai che sono per i condotti oh guarda la mappa perché non guardi la mappa perché c'è una deviazione c'è una deviazione del condotto eccolo trova l'ufficio di rive e fai un taglio della madonna se vuoi tagliare non so di là ovviamente se devi prendere la strada lunga c'è sicuramente ah da qua non ti fa uscire infatti pretendi che io cammini in un posto che è chiuso adesso non lo so che cazzo non sapevo che era chiuso io andrei con calma qui non ti voglio dire cosa stanno dicendo in chat dimmi solo dove devo andare allora dritto ante noi nella stanza c'è un altro salvataggio e devo andare a sinistra quindi vai a salvare là in fondo qua per entro no si io direi oh che vogliamo fa andiamo andare ancora meno 20 voglio fare 10 minuti no 10 minuti è troppo Alessio 5 minuti mi piace molto cioè voglio capire dove siamo voglio che che mi dice nonno c'è qualcosa da prendere uno di due cazzo di cazzo da razzi ho dei pazienti che avranno bisogno di quei medicinali un'altra registrazione è merda è così precaria vai 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 non devi uscire dall'altra parte o poi tagliare di qua no ma ha detto non di là ti ha detto non di là no non di là eh eh perché esatto chiedo andare a destra vai sereno vai sereno eh là dai questo quanto parla dai dai fidati che cazzo sennò qua non arriviamo più qua è chiuso trovo l'ufficio di morri ma è chiuso andate avanti 10 minuti dice anche centini altre due ore è chiuso eh guardate la mappa non potete smettere adesso quel che c'è la parte non posso dirvi la la mappa perché non guardi la mappa qua guarda qua dai arriviamo almeno all'ufficio di morley dopo l'ufficio dei morley salviamo e buonanotte e ci siamo e anche questa è fatta questo è l'ufficio di morley si dove l'avrà scritto nei testicoli dello scheletro andiamo a vedere no non ci sta nei testicoli dello scheletro però vedo che il testicolo dentro c'ha le tue stesse passioni ha un'asta che gli va su per il culo visto fino alla spina dorsale ecco perché mi fa un po' male andiamo accendi il tuo cazzo di terminale tanto ci sarà un giochino un fanta giochino de merda pochi farmaci quanto legge passa per il carico su youtube un paio d'ore un paio d'ore sarà su youtube si 1702 ciccio stai parlando col tipo mi sento sto giocando con kinect kinect 1702 quindi ci hanno bloccato dentro a cosa ci serve la testera d'accesso non ho capito che cosa è successo è successo che è arrivato qualcosa che ha contaminato si ha detto violazione del contaminato del si di sto cazzo e quindi lui ha detto concentrati sulla testera d'accesso ecco c'è questa testera d'accesso è questa 1702 l'abbiamo trovata ciccio e va bene allora vai e lui non dice un cacchio adesso abbiamo un altro obiettivo dov'è l'obiettivo? là sotto ah che è dove prima mi aveva detto no non andare lì ovviamente sul tavolo sul tavolo c'è roba non c'è niente sono pieno i pezzi di metallo c'è nient'altro? no io se fossi in Pierpaolo andrei lentamente ma che cosa fai? porca ma che cosa fai? c'è l'angere che sto uscendo? c'è l'angere che sto uscendo? prendite sta lì dietro guarda 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 che fai ti alzi in Pierpa ma che sei coglione levati c'hai messo un'ora e mezza mo ti becca era tutto il tempo vediamo guarda guarda che sei bello malato ah io sono malato loro che hanno fatto sto gioco che cazzo non c'è gioco basta entra nella stanza e salva guarda la stanza lì dentro vai dritto a sinistra vai dritto piano cammina e vai dritto a sinistra dritto a sinistra stai col coso rumorifero apri il sensore di movimento Alessio entra dentro e c'è subito a destra per salvare ma è rientrato qua? si ma come si? a destra salva subito si ma dov'è lui? dritto salva se non salvi sei morto x x x vabbè Alessio ma sei scemo? ma com'è che sono così alto? basta sei morto e te l'ho detto che eri morto ti è ci hai messo un'ora e mezza ci hai messo sei un coglione non sai giocare c'è c'è poco da fare se non sai giocare un'ora e mezza salva si alza salva l'inventario cioè sei proprio un coglione sei basta è finito arriva lì a salvare però rifai il giretto perché non è neanche di sorpresa la prossima volta non fa ridere che cazzo ridi? ma perché mi devi rompere le palle? perché non sei capace a giocare quindi quanto sei lontano adesso dal salvataggio? devi ritrovare Morley? si dai vai veloce verso Morley che tanto non succede niente corri da Morley guarda tutto il tutto il che? guarda tutto il computer devi guardare tutte le lo so lo so non c'è bisogno di morirci l'ho visto eh no nel senso che non c'è una che conta più degli altri devi guardarle tutte poi prendi se c'è qualcosa da prendere andiamo veloci là e salviamo dopo e poi chiudiamo si ma c'è sempre il rischio che rimuoia eh ma l'Alien ha 6 dita effettivamente loro non ho controllato te l'hai contata? no non ci ho fatto caso sicuramente più di 4 erano si l'ho trovata comunque era incredibile hai visto quanto sei basso rispetto al salvataggio quando sei accucciato? si ma tu spingevi tutti i tasti ma ha poco senso che sia a quell'altezza spingevi tutti i tasti possibile? no spingevo X spingevo X no perché infatti non hai salvato ma no perché che non ero indirizzato verso il salvataggio allora secondo te adesso che faccio? vai lì vai lì aspetti che venga giù è il solito gioco vai faccio bene però eh si però però si parla sempre di sto cazzo di Alien che dovrebbe girare chissà dove quando come perché è tutto scriptato no perché adesso lui sceglie dopo si attiva e va dove gli pare vediamo se cambia idea no va lì aspetta e poi si attiva intanto guarda che cammina diversamente guarda guarda è entrato dove dobbiamo andare noi come prima vai giochiamo a normale effettivamente però potrebbe cambiare prepotentemente lui se fosse vabbè tu gli apri le porte con quella guarda in alto scusa ma lui cos'è scomparso ah no è andato su sta tornando ma non ce la faccio corre ma cosa faccio sei morto hai visto come correva ma non stava correndo come adesso ti arriva di fronte ti sei preso un colpo ti hai preso un colpo pure a te adesso e quindi adesso che cazzo facciamo proviamo a fare il giro ma scusa andava benissimo ah no perché tanto anche se vai a salvare sei nella merda lo stesso dovevo salvare perché devo salvare no dovresti lanciargli qualcosa dove un rumore qualcosa gli lancio un rumore aspetta che ti lancio un rumore cosa facciamo rimandiamo sto pezzo la prossima volta no facciamo l'ultima proprio tentativa dai sono i 46 abbiamo 10 minuti no no meno sì però intendo finì a meno 10 arriva il salvataggio punto eh ci prova adesso non è che mi sto facendo le seghette eh la gente che dice nessuno ha risopero di te che se ti ha preso stanno ridendo come matti mi hanno detto anche fuggi sciocco hai visto come correva ti hai preso il collasso ma è che mi hai preso il collasso non aveva capito che stava facendo il giro di là eh sì sì come no non l'avevi capito è arrivato qua sicuramente muova perché non l'avevi capito usate i razzi continua a dire di usare i razzi ma che ci faccio con i razzi ah non lo so telefona centini gli dici ah centini hai rotto il cazzo questi razzi usate le casse acustiche però effettivamente le casse le ho finite ma tu non usi un cazzo però effettivamente allora a parte che è comunque alien un cazzo sì ma non usi un cazzo allora prendo un non ho nessun razzo non ho nessun razzo che cosa poi che uso una cassa acustica che non ce le ho perché l'unica che c'avevo l'ho lanciata ok la granata è mia più probabilmente la granata flash la granata ma che ci fa con la granata flash lo attiri lo mandi via ma dove lo attiri qualcosa otterrai come risultato no l'unica cosa è che probabilmente bisogna stare attenti un attimo lo sai cosa a farlo andare via lontano come ho fatto prima io basta aspettare un po' non so così convinta lei sì comunque se stai lì non fa un cazzo questo lo sappiamo questo lo sappiamo tutti conta le dita no le dita te le fa vedere bene quando quando ti ammazza quindi probabilmente dopo ci possiamo guardare se mentre saldi ci ammazza craftala la cassa acustica non ce l'ho non ce l'ho prova 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 non ho la roba no non ce la possiamo fare il problema è che se entriamo nella stanza ti vede per forza ok non entrare da lì scusa prova a guardare di qua se guardo di qua vado da sotto e lui c'è il dato sotto no lui è entrato lì dentro adesso e poi va a destra che infatti lui ci ha corso appresso da destra cioè quindi lui esce da sotto no perché è l'unica porta non c'è un'altra porta no io credo che forse correndo riesce a uscire da sotto si è probabile e allora cosa fai e quindi ci stai andando addosso provo a guardarlo di qua magari dov'è ecco vai via scusa adesso è scompasso sta lì sta lì sulla porta sta sulla porta lo vedi quindi è pericolosissimo andare a salvare vai stai adesso continua a osservarlo non ti devi muovere secondo me sei morto se ti muovi vedi l'hai fatta rincazzare no ha un pattern tutto suo stranissimo aspetta aspetta è figo è figo guarda che sta andando dall'altra parte hai fatto troppo rumore ma c'è hai fatto troppo rumore adesso prima o poi passerà anche di lì oppure torna indietro quindi cosa fai adesso qua dietro di te c'è il nostro obiettivo 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 c'è alien lì giù cosa cazzo faccio dietro di te c'è il nostro obiettivo adesso c'è alien di fronte ma se ti gira e spingi un bottone è finito di bello no perché ti vuoi di aprire entra 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 girati 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 c'è la dica cammina non stavi dietro la porta cosa è che pensi che non entri è un troppo coglione eh guarda che sei deficiente sta un millimetro sta qua dietro indietreggia indietreggia Posso? Chiudi così, ho il muro alle spalle. Vabbè, sei proprio deficiente, eh. È sempre più vicino. Adesso ce l'ho dietro, vuol dire che è andato da un'altra parte. Cammina dietro, indietreggia. No, non cammini. Girati indietreggia. Conosci il verbo indietreggiare? Ma qual è lo scopo di indietreggiare? Che fai chiude sta cazzo di porta senza che lo vieni. Leva sto sensore. Eccolo, madonna! Questa è stata grande. Cammina, cammini, continua a indietreggia. Continua a indietreggiare. Ma si chiude secondo te? Quando è che si chiude? Prova a spingere quel pulsante là sopra, sulla sinistra. C'è la mappa, c'è la mappa, c'è la mappa. Spingi il pulsante. Sei matto, eh. Ah, lo vuoi provare a bloccare, la porta? Eh, vabbè, l'hai riaperta. Ok. Porca troia. Spero che il resto non puoi più salvare. Questa era clamorosa, questa, eh. E dov'è un salvataggio adesso, porca trota? Vai te, vai te. Ma basta, dove vado? Dove sta? Eh, tutto ti avrai già la prossima volta. Basta. Non lo so, se vuoi prendere, devi riuscire a salvare. Capito, basta, finiamo qua, chiudiamo qua. Continuiamo la nostra volta e ripartiamo da qua. E cerchiamo una soluzione. Però, dovevamo entrare nella porta subito, secondo me. Questa qui? Cioè, quando io ho detto entriamo? E poi la chiudevi? Ma però, però rimane il fatto che di là, se c'è il salvataggio, si può salvare. Cioè, la questione è che se tu distrai il cazzo di Alien e salvi, partiamo da lì e non sempre da dover entrare da Mosley, che è una rottura del cazzo. Il problema che mi chiedo è, sei convinto tu che se io salvo... Prima? Se io lancio una cosa, ho il tempo di salvare, andare da spinge? Non ne ho la più pari di idea. Secondo me no. Ti ami centini, domani glielo chiedi. Va bene. Va bene, ragazzi. Grazie. Commentate, condividete. Se volete sempre che continuiamo, aumentiamo. Esatto, altrimenti la diamo, per cui fateci sapere se vi piace. Buon buon, ciao! 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 Grazie a tutti